Nato a casa stamattina, è un discorso della collaborazione, è stato Ermanno che ha fatto la triutista, siamo trovati, questa è un'idea meravigliosa. Io ve lo dico, non so se avete un po' di esperienza, se siete stati nelle mostre quelle famose dell'arte moderna, la biannale o la triennale, ormai si parla della quadriennale di Macra, o della quinquennale, l'arte moderna che c'è a Macra, io credo che in rapporto alla popolazione siamo i più elevati a livello mondiale.